benvenuti a questo nuovo format targato Money China Media Group quest'oggi parliamo dei progetti di eh collaborazione universitaria tra Italia e Cina e diamo il benvenuto al professor Xing Zhang Jun che è collegato con noi professor Zhang Jun che è il responsabile di Uni Italia in Cina coordinatore del progetto Marco Polo e Tugando esperto di collaborazione universitaria mobilità degli studenti cinesi in Italia mobilità degli studenti cinesi all'estero e anche espertissimo in ambito agri food ha promosso numerosi progetti di cooperazione bilaterale d'altronde eh dottore di ricerca dell'agricoltura dell'università di Pisa ma partiamo proprio con il progetto Marco Polo un progetto avviato nel duemilacinque che ha segnato una vera e propria svolta per la promozione dell'università italiana in Cina offrendo agli studenti cinesi la possibilità di frequentare le università italiane allora quali sono stati i più importanti risultati raggiunti in questi anni? Eh è vero il il progetto Marco Polo è iniziato da duemilacinque 2006 che rappresenta un canale principale degli studenti cinesi che studiano che studiano in Italia c'è un accordo bilaterale tra i due paesi importante per diciamo garantire lo studio degli studenti cinesi in Italia che è un accordo bilaterale tra i due paesi per riconoscimento dei titoli accademici firmato da due governi nel 2005 dal 2006 fino al 2020 abbiamo assistito quasi 12 mila studenti cinesi che sono andati in Italia a studiare attraverso il progetto Marco Polo quindi il progetto Marco Polo che gli studenti possono scegliere diciamo il corso offerto dall'università italiani quindi diciamo dall'università più importante l'università degli studi di Polonia, Milano, Roma anche dall'università piccole come dimensione piccole. Ecco professore qual è stata l'integrazione universitaria italiana in Cina cioè che tipo di valore aggiunto si è creato? Ci sono diverse tipologie di collaborazione tra l'università cinese e l'università italiana che dallo scambio degli studenti dallo scambio di ricercatori, di insegnanti, professori, docente anche diciamo il progetto di congiunto per la ricerca scientifica quindi da questo si vede che la interazione tra l'università cinese e l'università italiana sta crescendo molto non solo questo non solo che gli studenti cinesi che vanno in Italia a studiare ma anche ci sono anche gli studenti italiani che che vengono in Cina per studiare. A questo punto è interessante sapere allora qual è stato il feedback degli studenti cinesi in Italia? Che impatto ha avuto questa esperienza della loro formazione e acquisizione di competenze anche e forse soprattutto per il mondo del lavoro? In generale il feedback degli studenti cinesi che hanno avuto l'esperienza di studio in Italia sono molto positivo hanno migliorato la loro capacità della lingua che riescono anche trovare il lavoro nel trovare il lavoro legato anche con lo scambio internazionale che hanno anche la possibilità di lavorare per imprese cinesi in Italia. Poi in Italia ce ne sono numerose di musei di alto valore che l'absenta un veramente un risorso dell'istruzione per per quelli che studiano la musica studiano design studiano l'academia per arti quindi hanno possibilità di vivere dal vivo diciamo la firma che è in modo buono quindi l'Italia ha fornito la possibilità di integrazione di fare loro capire diciamo tanti per il culturale la storia quindi diciamo l'esperienza molto preziosa e probabilmente una parte del nostro pubblico sarà incuriosita dal sistema universitario cinese cioè come come è strutturato quali sono le principali differenze con quello italiano dal punto di vista come diciamo la struttura è abbastanza simile diciamo sistema universitario cinese e sistema universitario italiano. Prima ci sono tre livelli di formazione di alta formazione anche in Cina questo sono molto simili e la piccola differenza che in Cina ce ne sono due tipologie di laurea magistrale uno si chiama laurea magistrale accademico che dura tre anni un'altra si chiama laurea magistrale professionale che dura solo due anni diciamo questi sono due direzioni diverse uno verso la formazione della capacità di ricerca scientifica una di analisi statistiche le cose una è verso le diciamo la capacità che lavora nell'ambiente diciamo imprenditoriale secondo me la più grande differenza tra il sistema cinese e il sistema italiano che Italia c'è un unico sistema nel mondo un network di affam cioè alta formazione un'altra cosa è la differenza tra Italia e Cina nel sistema nel sistema universitario e la sistema di credito formativo universitario in Italia c'è un credito formativo un universitario in funzione dei tempi dedicati per il corso per la lezione per l'esame eccetera la differenza principale anche la modalità di svolgimento degli esami sappiamo tutti che in Italia soprattutto per la diciamo per il corso umanistico che la maggior parte dei corsi esami vengono fatti dall'olare però in Cina la maggior parte dell'esame viene fatto in maniera scritta abbiamo parlato del progetto Marco Polo ma merita sicuramente menzione il progetto Tugando che invece riguarda le competenze artistiche la musica il design nel settore questo dove l'Italia da sempre eccelle in cui qual è il bilancio che si sente di fare? Gli studenti cinesi che hanno scelto Italia come affam per studiare in Italia per avere la capacità per avere la preparazione dell'occupazione in questo settore che in Cina ci sono anche diciamo risorse non è sufficiente secondo me nel settore per esempio per canto nella formazione musicale design quindi Italia ormai ha un network capillare della formazione artistica quindi direi che ulteriormente nel futuro il progetto Turanduo si aumenta ancora il numero di studenti cinesi che studiano in Italia anche aumenta la qualità degli studenti Una possibile barriera per questo tipo di progetti è rappresentato forse dalla lingua ecco come sono state superate le difficoltà linguistiche anche per l'integrazione degli studenti? Assolutamente la conoscenza della lingua italiana oppure lingua straniera è una cosa molto molto importante per capire la disciplina del studio per capire la cultura italiana quindi è una cosa molto importante senza la conoscenza senza la conoscenza della lingua italiana uno non può finire lo studio in Italia questo diciamo che negli ultimi anni che la situazione sta migliorando che adesso il corso obbligatorio della formazione linguistica della lingua italiana ha aumentato fino a 11 mesi però questo secondo me non bastano ancora non bastano ancora che noi stiamo creando diciamo vari progetti di tale la possibilità di preformazione linguistica già dal primo anno di scuola media superiore quindi questo facilita la conoscenza di disciplina specifica in Italia C'è la possibilità che in futuro questa cooperazione sul fronte universitario possa essere ulteriormente rafforzata e in che modo? Gli università cinesi capiscono anche l'eccellenza anche l'aspetto vantazioso dell'università italiana che io posso citare anche diciamo ultima versione del quest ranking cioè il ranking dell'università del mondo che sappiamo che in Italia ce ne sono ci sono 97 università che questo secondo la statistica di Moore no? Nella fine del 2019 in Italia ci sono solo 97 ma ben 41 università italiane sono entrate nelle prime 1.300 diciamo ranking nel mondo questo che vuol dire? Vuol dire che la qualità dell'università italiana che è molto alta quindi direi che adesso stanno facendo diciamo stanno creando tante diciamo sinergia tra l'università italiana e l'università cinese che hanno rafforzato rafforzato diciamo la collaborazione tra l'università è di eccedente poi noi dobbiamo rafforzare diciamo di creare corso congiunto questo anche in Cina adesso il governo favorisce questa tipologia di collaborazione internazionale ci sono già diciamo 28 corsi congiunti da l'università cinese e l'università italiana adesso ci sono più di studenti cinesi che vanno in Italia a studiare che la maggior parte degli studenti italiani che vengono da Cina a studiare fanno un periodo molto breve quindi nel futuro dobbiamo avere anche la possibilità di avere gli studenti italiani che studiano in Cina diciamo prima che lei ha seguito numerosi progetti bilaterali di agrifood molte regioni italiane hanno individuato proprio nella Cina uno dei possibili mercati di sbocco dei prodotti tipici italiani come sta andando? io direi che l'agricoltura italiana è un'agricoltura unica nel mondo di qualità su base di biodiversità su base di diciamo che c'è un aspetto innovativo c'è un aspetto tradizionale quindi ci sono tanti aspetti che secondo me l'agricoltura cinese nel settore di agricoltura cinese possono trarre esperienza da Italia io direi che negli ultimi anni ha aumentato anche lo scambio ha aumentato lo scambio anche lo scambio dei prodotti agroalimentari in Italia c'è un tante piccole e medie imprese che sanno innovare le loro tecnologie quindi io direi che nel futuro noi dobbiamo far conoscere i cinesi eccellenza non solo i prodotti in più nel settore di formazione a livello universitario noi dobbiamo incoraggiare la collaborazione tra l'unità cinese e l'unità italiana per avere più la collaborazione nella formazione PhD nella ricerca scientifica sull'ambiente su paesaggio su progettazione di paesaggio e gestione dell'aria verde grazie davvero al professor Xing Zhang Jun che ci ha portato dentro a questi progetti di collaborazione universitaria per Italia e Cina ci ha fatto conoscere anche il modello universitario cinese e poi ci ha portato anche nel mondo dell'agri-food settore davvero cruciale per l'Italia ma abbiamo sentito anche fonte di possibili ulteriori rapporti e scambio a valore aggiunto con la Cina grazie davvero professore di essere stato con noi grazie per l'intervista grazie a tutti quelli che ci hanno seguito alla prossima grazie a tutti